Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Quest'oggi andremo a rispondere o cercheremo di rispondere a una delle domande più gettonate di quest'hobby, ovvero come fare per avviare un acquario nel modo giusto. Prima di partire vi ricordo di iscrivervi se ancora non l'avete fatto e vi ringrazio moltissimo per il vostro supporto. Beh, detto questo, partiamo! Eccoci qui. Allora, come fare per avviare un acquario nel modo corretto? Allora, per avviare un acquario nel modo corretto dobbiamo capire che il nostro acquario è come un ecosistema, è come un pianeta su cui noi dobbiamo portare la vita. Perciò la prima cosa che vi posso consigliare e che serve ad ogni nuova persona che si sta facciando a quest'hobby è tanta tanta pazienza. E prima di mettermi a parlare del ciclo dell'azoto, che magari è qualcosa che avete sentito spesso riguardo a questo argomento, vi voglio dare un consiglio che non sento spesso dare ma che secondo me è fondamentale. La prima cosa da fare quando volete allestire un acquario è misurare i valori della vostra acqua, o di rubinetto o di quella che volete utilizzare nel vostro acquario. Infatti dobbiamo assicurarci prima di tutto che i valori dell'acqua che volete utilizzare siano idonei alla vita. Ma oltre a questo dobbiamo vedere se i valori della vostra acqua rispettino quelle che sono le esigenze della specie che volete allevare. Per esempio io ho dell'acqua molto dura e quindi ho visto che in acqua dura posso allevare o dei pesci rossi, degli oranda, che attualmente allevo, oppure delle caridine, che sono dei piccoli gamberetti appunto di acqua dolce. Bene, detto questo, per facilitare l'allevamento di una specie magari potete vedere l'acqua che avete e in base all'acqua che avete vedere quale specie magari è più idonea a quei valori. Altrimenti se la vostra acqua che volete usare non è idonea ad allevare quella di determinata specie la dovrete costruire voi, magari prendendo dell'acqua di osmosi e costruendola con dei sali. Per esempio se io ho dell'acqua dura e voglio allevare un Betta Splendence non potrò farlo perché i Betta Splendence, chiamati anche pesce combattenti, vogliono dell'acqua acida, dell'acqua che abbia valori diversi da quella che ho attualmente. Per questo non andrà bene. È importantissimo perciò, prima di realizzare il nostro acquario, sapere che la nostra acqua sia sicura per i pesci che andremo ad allevare. Il secondo consiglio che posso darvi è sicuramente quello di comprare questi tre prodotti essenziali per un acquario, che sono un filtro, sicuramente perché se siete principianti vi servirà assolutamente. Possono esistere anche acquari senza filtro ma avremmo bisogno di una quantità di piante molto importante che di solito non si riesce ad avere, soprattutto se siete principianti. La seconda cosa di cui avrete bisogno è un attivatore batterico perché quando abbiamo un acquario i batteri sono i nostri amici che ci aiuteranno a gestire le sostanze tossiche e pericolose. E un biocondizionatore, se usate acqua di rubinetto o acqua che non sapete che sia sicura per i vostri pesci. Adesso andremo a spiegare passo passo a cosa servono questi prodotti. Allora, prima di avviare un acquario avrete bisogno all'incirca di un mese. Perché questo famoso mese? Perché nel primo mese, tra la seconda e la terza settimana, avverrà un evento molto pericoloso, ovvero il picco di nitriti. Ma che cosa sono i nitriti? Bisogna parlare un po' di chimica. Diciamo che all'interno del nostro acquario all'inizio non c'è vita, però a mano a mano che andiamo avanti si andranno a verificare i cambiamenti chimici all'interno dell'acqua. Soprattutto dalla degradazione di sostanze organiche, come corpi dei composti di pesci, oppure composti azotati quali proteine, si libera appunto dell'azoto. L'azoto è una molecola molto pericolosa. All'inizio l'azoto viene disciolto nell'acqua sotto forma di ammoniaca. L'ammoniaca, la cui formula è NH3, è molto pericolosa per i nostri pesci. È letale, mortale. Per fortuna all'interno del nostro acquario possiamo allevare dei batteri che sono in grado di trasformare l'ammoniaca in NO2, ovvero nitriti, e poi NO3, ovvero nitrati. Noi di cosa abbiamo paura? Allora, noi abbiamo paura delle sostanze tossiche. L'ammoniaca di solito non rimane per molti in acqua perché legandosi all'acqua viene dissociata in ioni ammonio e poi gli ioni ammonio saranno convertiti in queste sostanze che vi ho citato prima. Quali sono le nostre armi contro l'azoto, contro questo atomo altamente tossico? La nostra arma sono i batteri buoni, i batteri nitrificanti che possono crescere annidandosi in piccole strutture porose che saranno i cannolicchi che sono presenti all'interno del nostro filtro. Basti pensare che queste piccole superfici porose che sembrano molto piccole in realtà hanno superfici enormi dei cannolicchi. Un sacchetto di cannolicchi può avere una superficie anche di 20 o 30 metri quadri. Questo ci fa capire quanti batteri possiamo allevare nel nostro acquaio. Bene, il problema qual è? Il problema è che questi composti azotati sono molto più veloci a comparire in acqua dei batteri. Infatti il periodo più pericoloso è quello che va dalla seconda alla terza settimana perché tra la seconda e la terza settimana ci sarà il picco di nitriti che sono questi agenti tossici in acqua. Mentre i nostri batteri non saranno ancora pronti a convertire queste sostanze tossiche in nitrati, ovvero sostanze meno nocive per i nostri pesci. Bene, allora come possiamo fare? Dobbiamo aspettare il cosiddetto mese perché dopo un mese le nostre colonie batteriche saranno pronte a sconfiggere e a convertire questi agenti tossici in sostanze meno nocive per i nostri pesci. Bene, adesso andiamo a spiegare un attimo le tempistiche. Allora possiamo dire che prima di tutto l'ammoniaca viene convertita in ioni ammonio perché si lega all'acqua. Poi vi sono i batteri che possono trasformare lo ioni ammonio in nitriti, NO2. I nitriti sono molto pericolosi in acquario, infatti la concentrazione all'interno di un acquario deve essere portata al di sotto del milligrammo litro perché sono altamente tossici. Bene, una volta che noi avremo allevato e avremo il nostro carico batterico, quindi all'incirca dopo i primi 30 giorni, i batteri saranno in grado di convertire questi nitriti in nitrati. Bene, i nitrati sono già delle sostanze che sono molto sopportate, sono sopportate ampiamente dalla flora, dalla fauna in acquario. Le loro concentrazioni possono aggirarsi tra i 20-30 milligrammi litro a seconda della specie e dalla capacità dei pesci di adattarsi. Quindi, detto questo, è importantissimo che questi batteri abbiano il tempo per stabilizzarsi e per crescere bene. Per fare questo dovremo usare i due prodotti che ho citato prima, ovvero un attivatore batterico, che è appunto un prodotto che ci aiuterà a allevare queste colonie di batteri perché è formato da bacilli vivi e da grandi quantità di batteri che ci aiuteranno a colonizzare il nostro filtro. L'altro prodotto è il biocondizionatore perché è importantissimo purificare l'acqua in cui andremo a coltivare questi batteri, perché se usate acqua di rubinetto, nell'acqua di rubinetto c'è un agente altamente pericoloso per la crescita dei batteri che è il cloro, perché il cloro è un potentissimo disinfettante. Perciò, se cercate di far crescere i vostri batteri dell'acqua di rubinetto piena di cloro, il cloro andrà a uccidere tutte le vostre colonie batteriche e quindi non raggiungerete mai una maturazione dell'acquario. Per far maturare il vostro acquario ai batteri servirà del cibo. Perciò, se avete delle piante, sicuramente i batteri saranno nutriti dalla marcescenza di alcune foglie o comunque ci saranno altri prodotti di scarto che forniranno le piante. Ma se avete un acquario piuttosto vuoto e non avete abbastanza carico organico, vi suggerisco di inserire delle piccole scaglie di mangime una o due volte a settimana per far sì che i batteri abbiano il loro nutrimento. Inoltre, per far crescere più velocemente i vostri batteri, vi consiglio di aggiungere un areatore perché l'ossigeno è la chiave per la vita e vi aiuterà anche a fornire del nutrimento alle vostre piante quando avrete le luci spente. E inoltre, vi consiglio anche di aggiungere del sale. È un normale sale della cucina, NACL, perché l'ione cloruro entrerà in competizione con NO2, con i nitriti e questo quindi farà in modo di allentare la loro crescita e quindi rendere l'acqua più sicura. Bene, detto questo, mi auguro di esservi stato d'aiuto, di essere stato esaustivo. Vi prego di aiutarmi a far crescere questo canale iscrivendovi, è assolutamente gratuito per voi ma per me è una grande mano. E niente, detto questo, vi auguro una buona giornata e noi ci vediamo al prossimo video. Grazie 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 Grazie